ciao a tutti oggi faremo oggi faremo ci siamo già una persona saluta buongiorno comunque oggi faremo i numeri di gta 5 sono 24 se saranno veri o falsi comunque secondo te la percentuale quale sarà allora la percentuale secondo te quale sarà tutti saranno 0% tutti i fatti comunque prendi se vuoi prendi pure il telefono e fallo pure tu comunque il primo se non capite se non capite qualcosa qualche numero ve lo scrivo nei commenti comunque il primo numero è 2 8 4 5 5 0 1 3 9 chiamiamo e vediamo cosa sarà se sarà vero o falso sentiamo 5 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 6 5 6 6 7 7 6 vediamo se sarà vero o falso chiamato in corso se ci risponderà vediamo se ci risponderà mi ha staccato si è tolto allora vabbè 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 terzo unità 5 5 5 5 eh vabbè che fa 5 7 8 1 7 8 5 5 5 5 0 1 7 8 così io lo chiamo e vediamo se sarà vero o falso il primo è stato vero il secondo falso evitiamo adesso chiamati in corso se ci risponderò il nostro falso è importante per noi ma al momento è vero questo il terzo vero ok andiamo al quarto andiamo 5 5 5 0 1 6 8 8 vediamo chiamati in corso 2 3 3 3 3 4 ok questo è vero anche vediamo è vero ok sì 5 5 5 0 1 2 2 astag ok fatto 5 5 5 0 12 astag ok chiamati in corso ok chiamati in corso sconosciuto collegato è anche vero questo è che mi ha risposto 5 5 5 5 5 5 0 1 14 ok vediamo chiamati in corso ma dove sei? vediamo chiamati in corso vediamo se mi risponderò questo numero è più questo numero non è più attivo il numero non è più attivo collegato ok è vero passiamo al prossimo 5 5 5 5 0 1 1 8 astag vediamo chiamati in corso ok chi è la tua città è pieno arrivederci ok vengono no come è pdp il quest'ultimo credetto non mi buttare scrivente numero 346 555 0 1 6 0 ok chiamati in corso comunque sono tantissimi i numeri che ho scelto sono 1100 sono 24 è qui l'eser non lascia che mi mettiamo a giro come sa fare comunque qua è l'eser vabbè abbiamo chiamato l'eser facciamo dell'eser 3 2 8 5 5 5 0 1 9 3 vediamo se questo qua è vero o falso chiamati in corso collegato con l'a di prima alla fine del primo comunque 3 2 8 5 5 5 0 190 no 185 devo dire ok fatto chiamati in corso questo questo è il mod di grape seed perciò lasciate un messaggio se avete qualche informazione che riguarda il quale si guarda la quale è molto che mi sento se mi sbaglio non so se voi lo sapete si trova tipo in questa zona un po' misterioso anche questo numero di telefono passiamo al prossimo mi sono arrivati dei rose mi sono arrivati dei messaggi sconosciuto il primo mi è fregato la macchina saremo immagine per vermi pezzo di me vabbè il secondo è attenzione qualcuno ha messo una taglia ah vabbè questo qua non era niente di più è quella di prima vabbè il l'altro numero è 27 27 3 555 0 185 come prima andiamo questo qua è brucia è brucia è lui è lui la fede non mi che paura un po' l'altro 6 in 1 555 0 non buttano in sotto che sto scrivendo 128 ok vediamo se questo qua è vero oh e mentre non ho farci un giro uh sta girando la macchina vai andiamo a fare un giro questo qua è collegato allora è vero ok andiamo al prossimo mentre tu guida così faremo un giro di lo santo prossimo 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 3 4 6 555 0 0 180 4 ma tu hai messo una mila dietro si c'è una mila sento pure un tumore chiamati in corso si è vero vuoi mi fanno esplode questo qua è vero anche conche sono quasi tutti vediamo ok passiamo al prossimo 3 4 6 5 5 5 0 126 ok chiamati in corso vediamo se è vero fatto 6 6 6 6 7 7 7 8 7 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 di 11 20 255 100 c'è 2 20 di 12 14 15 perché 5 0 195 chiamati in costo tutti veri se te ne accorgi vabbè io ho diviso in categoria sicuramente smettete di fare gli scari vabbè questo qua era con la di più un incidente comunque io lo dici in categoria perché ho fatto un'altra categoria che sono i poteri se funzionano questo qua invece è un numero molto particolare perché l'ho scelto io stavente comunque 9 1 1 vediamo chi ci rispondrà vabbè l'emergenza nuovo contatto e meccano ma vabbè se chiedete ok passiamo al prossimo numero passiamo alla categoria dei poteri facciamo 1 9 9 9 prima di questo come di questo c'è quello della razza e le so non so però in questa categoria ho messo per dei poteri comunque fermati andava al mare perché c'è tipo una costa del mare nel mare faccio il mare a fianco bravo continuo ok fermati vediamo se funziona ok fermati 1 9 9 9 6 5 1 6 5 1 6 6 2 2 2 3 questo è della ragazza però non pensi che funziona non dice niente non dice niente non vedo niente no non c'è questo qua è falso ok comunque pensiamo al prossimo 1 9 9 9 4 6 8 5 5 5 5 7 abbiamo chiamato in corso, vediamo sicuro mi ricordo se ho potere chiamato in corso collegato però non dice niente però mi ha risposto allora è vero in teoria però c'è sempre l'acqua ok è falso è falso passiamo al prossimo 1 non andare qua così abbiamo la pulizia se fai qualcosa di male 5 3 8 5 45 poi aspetta 5 6 6 8 ok vediamo se chiamati in corso noi ci siamo richiamati più tardi allora è vero oh ma è che tutto è sceso entri in macchina muoviti muoviti facciamo un altro comunque 199 268 268 268 6 1 3 3 3 21 la fila ok vediamo se o da entrare in macchina per un giro Volevo che mi scudo chiamato il posto Qui ci siamo richiamati più tardi con un piccolo sempre Non ci sono questi quali sono gli stessi presso alcuni numeri che sono Che sono non sono uguali però dicono le stesse cose Vabbè ma siamo al prossimo Ok 1 9 331 526 9 9 Vediamo se questo è vero o falso che sta facendo Eh Sta bruciando la macchina Grazie per aver chiamato per riconoscere l'orario e disponibilità Visite Vabbè Passiamo Non qua sono gli ultimi Vediamo cosa ci diranno 1 9 9 9 2 7 5 1 5 6 3 64 Ok Fatto Vediamo cosa ci dirò Ok Questo è falso e che non... quella che rispondono però non parlano sono falsi Comunque Passiamo al prossimo Ma ancora mancano 3 Che paura comunque ma tu spaventa il mio... che paura Siamo esplosi Siamo esplosi Che tu avevi pure la mina dietro ma questo siamo esplosi Vabbè non fa niente Oh 5 questa è una cosa, una cosa Ehm 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 Se ti provate eh se va anche storia Perché penso che il video online dovrebbe essere che fai anche storia Ehm Vabbè non facciamo così quanto durerà questo video Però suggerite la storia non lo facciamo No 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 a meno di provarci loro Ah si provate loro A parte voi Eh perché sennò parliamo sotto e mezzo Ok vediamo Allora il prossimo numero? Vabbè non l'ho detto il numero però lo sto chiamando E se stai parlando non volevo disfubare Comunque il numero è 1 9 9 Vabbè questo qua è falso perché Vabbè Quegli che rispondono però non parli sono falsi Comunque Passiamo al per ultimo Ok Non punto No 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 ho visto quell'ultimo Questa quell'ultimo se non mi sbaglio Pensi si 1 9 9 5 3 5 1 6 6 2 6 7 Vediamo 6 7 7 8 7 7 7 8 8 9 9 10 9 10 10 10 9 10 10 alcuni sono veri oppure falsi alcuni codi i numeri di telefoni vi lascio nei commenti comunque noi ci vediamo al prossimo studio saluta